E' molto gentile a chiamarmi. Ho appena sentito alla radio le prime proiezioni, ma non è detto che le cose vadano così, no? Abbiamo perso, non si discute? Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Vorrei essere lì vicino a te. Sai, saprei come riempirti la vita a Cavaliero. Ah sì? E cosa posso fare per te? Tienemi con te. Tienemi. Pronto? Pronto, chi è? Sono la madre, fortunatamente adottiva, di quella puttana che sta cercando di abbindolarla, caro Cavaliere. Tu non ti impicciare, riattacca. Sono a casa mia e faccio quello che mi pare, hai capito? Pronto a lei, Cavaliere, se la dia a gambe levate prima che sia troppo tardi, quella porta disgrazia. Ha rovinato la vita a me, a sua sorella e a Cesare Turati. È feccia, Cavaliere. Sono feccia come la vecchia. Venite, la vida è stato il mondo. Dono! No, lasciami, signore! Mi ascolti, Cavaliere? Mi ascolti? Rovinerà la sua vita. Lasci? Dono! Putta stronza! Pronto? Pronto? Se vuoi fare delle telefonate le fai fuori da casa mia Tu non riuscirai a fermarmi, hai capito? Nessuno ci riuscirà